In questo video ripercorreremo gli eventi principali della storia del Regno d'Italia dal 1870, l'anno della presa di Roma, fino al 1900, che segnerà appunto un altro momento particolarmente importante. Nel settembre del 1870 in Francia si stava combattendo la fase finale della guerra franco-prussiana, le truppe prussiane, cioè tedesche, erano arrivate ad assediare Parigi, quindi la Francia storica alleata dello Stato della Chiesa, storico alleato del Papa, era impegnata in una guerra che stava perdendo rovinosamente e l'Italia ne approfitta, capisce che è il momento buono, per occupare militarmente Roma. Era un progetto, quello dell'annessione di Roma, che già era programmato da diversi anni, è l'occasione più adatta. Il 20 settembre 1870 c'è il famoso episodio della breccia di Porta Pia, ovvero viene sfondata una parte delle fortificazioni dello Stato Pontificio, le truppe italiane entrano nel territorio centrale di Roma, del centro di Roma, e prendono possesso ufficialmente della città. Dunque a partire dal 1871 Roma diventa la capitale d'Italia, ma è anche l'inizio questo della cosiddetta questione romana, cioè di un conflitto diplomatico fra lo Stato della Chiesa o quel che restava dello Stato della Chiesa, ciò che oggi chiamiamo città del Vaticano, e il Regno d'Italia. Infatti Pio IX, che era pontefice dal 1846, si rifiuta di riconoscere la legittimità dello Stato italiano, cioè si rifiuta di riconoscere uno Stato che aveva, secondo lui, lo aveva espropriato del territorio dello Stato della Chiesa, dichiarandosi per tutto il resto della sua vita prigioniero politico dell'Italia. Non solo, nel 1874 proclama il cosiddetto non expedit, cioè sostanzialmente invita tutte le persone di fede cattolica a non riconoscere a loro volta la legittimità della politica dello Stato italiano e quindi a non partecipare in alcun modo, né attraverso candidature né attraverso il voto, alla vita politica italiana. In qualche modo questa questione romana segnerà una grave frattura nei rapporti fra la Chiesa e il Regno d'Italia. Il Regno d'Italia esisteva dal 1861 ufficialmente. I primi 15 anni del Regno d'Italia sono segnati dai governi della cosiddetta destra storica, cioè da partiti più legati alle fazioni più conservatrici, che era un'espressione dell'alta borghesia o addirittura dell'aristocrazia. È un periodo in cui appunto l'Italia e i governi si adoperano a una serie di riforme, innanzitutto per contrastare la crisi economica del Sud Italia e per organizzare proprio a livello istituzionale questo Stato completamente nuovo. Il 1876 è un anno particolarmente importante perché cade il governo della cosiddetta destra storica, cioè di quei partiti che avevano dominato la scena politica italiana per i primi 15 anni, e da parte del sovrano di Vittorio Emanuele II riceve l'incarico di formare un nuovo governo Agostino De Pretis. Agostino De Pretis era il leader della cosiddetta sinistra storica invece, cioè di quei partiti i cui membri sedevano alla sinistra, sul lato sinistro del Parlamento, che rappresentavano in qualche modo la politica di ispirazione riformista, cioè con maggiore tendenze liberali che puntava a dei cambiamenti che andassero incontro alle esigenze, alle richieste, alle necessità, anche degli strati sociali più bassi della popolazione, di quelli che a livello economico vivevano degli svantaggi, vivevano delle maggiori difficoltà. Si parla appunto di cosiddetta rivoluzione parlamentare, cioè di un cambiamento netto nelle forze politiche al governo dell'Italia. De Pretis sarà la figura centrale di questo periodo di vent'anni, definito appunto l'epoca della sinistra storica. De Pretis infatti sarà capo del governo varie volte, cinque volte in tutto, nel periodo compreso fra il 1876 e il 1887. Al periodo della sinistra storica è legato anche un fenomeno politico particolare che è quello del cosiddetto trasformismo. L'epoca del trasformismo sono quei cinque anni che vanno dal 1882 al 1887. Con trasformismo si intende la convergenza politica, cioè una sorta di alleanza o comunque di sostegno reciproco, che avviene fra la sinistra, fra i partiti di sinistra che erano al governo, che erano quelli che godevano della maggioranza in Parlamento, e i partiti della destra. Quindi in qualche modo ha una sorta di accordo fra Agostino De Pretis, capo del governo, leader della sinistra, e il nuovo leader dei partiti di destra, che era Marco Minghetti. Infatti dal 1883 la destra, quindi le forze politiche guidate da Minghetti, decideranno di appoggiare molto spesso il governo De Pretis intanto in Parlamento e di lavorare insieme al governo della sinistra storica a una serie di riforme. Quest'alleanza, diciamo, fra i vari rami del Parlamento italiano, per quanto fu importante a livello politico, fu anche oggetto di attacchi, critiche e, per esempio, rappresentazioni satiriche. L'immagine che vedete qui è quella di De Pretis rappresentato come un camaleonte, cioè come un animale che si trasforma, che muta pelle. In qualche modo oggi trasformismo è un termine usato in politica ma ha assunto un'accezione negativa perché indica l'atteggiamento di cambiare casacca, cambiare partito, cambiare l'idea, a seconda dei vantaggi politici del momento. La sinistra storica, dunque, ha segnato una grande importanza per l'evoluzione dello Stato italiano. Andiamo a vedere quali sono state alcune delle principali decisioni e delle principali leggi, riforme, portate avanti da De Pretis e dai suoi alleati politici. Nel 1877 innanzitutto la famosa legge Coppino, che prevedeva e introduceva l'istruzione elementare obbligatoria fino ai nove anni. Prima di questa data invece l'istruzione poteva anche coprire un periodo inferiore e in qualche modo legge Coppino da una parte va a contrastare il fenomeno del lavoro minorile anche fra bambini al di sotto dei dieci anni e cerca di creare una situazione di maggior diffusione della cultura e dell'istruzione, quindi cerca di andare a contrastare il fenomeno dell'analfabetismo che era ancora estremamente diffuso in Italia, in alcune parti dell'Italia nello specifico. Nel 1882 a livello di politica estera l'Italia sigla la triplice alleanza, cioè un accordo con gli imperi centrali, cosiddetti imperi centrali, ovvero con l'impero di Germania, nato ricordatevi nel 1870 dopo la fusione tra la Prussia e gli altri regni germanici, e l'impero austro-ungarico, l'impero d'Austria. Quest'ultima alleanza in particolare crea molto malessere, molto malcontento, molte proteste, perché? Perché c'è ancora la famosa questione risolta di Trento e Trieste, di quei territori che geograficamente, culturalmente appartenevano all'Italia, ma in realtà erano ancora parte dell'impero austriaco. Nel 1882 avviene anche un'importantissima riforma elettorale, in quanto il diritto di voto viene steso ai cittadini maschi che avessero almeno 21 anni, sulla base però o di un certo livello di istruzione oppure del reddito. Sostanzialmente viene quasi quadruplicato il numero di aventi diritto al voto. Le donne sono ancora escluse, purtroppo. In totale potevano votare nel 1882 2 milioni di persone che costituivano all'incirca il 7% dei maschi adulti del paese. Nel 1884, nel pieno di un periodo di grave crisi agricola che colpisce soprattutto il sud Italia, i governi della sinistra storica decidono di abolire la tassa sul macinato per cercare di ridare sostegno, di ridare l'infa vitale proprio alla classe agricola. Sempre invece, tornando a parlare di politica estera, nel 1885 l'Italia si imbarca nella sua prima missione coloniale e cioè, su richiesta fra l'altro della Gran Bretagna, occupa militarmente parte dell'Eritrea. Nel frattempo, nel 1878, muore Vittorio Emanuele II, che era stato il primo re d'Italia. Gli succede suo figlio, Umberto I di Savoia, che sarà il sovrano dello Stato italiano, il capo di Stato, dal 1878 al 1900. Dopo, invece, la morte di Agostino de Pretis, l'ultima fase, l'ultimo decennio di vita della sinistra storica, del periodo della sinistra storica, vede come figura principale Francesco Crispi. Crispi sarà capo del governo varie volte fra il 1887 e il 1896. Non in maniera continuativa, perché i capi di governo tendevano a cambiare abbastanza spesso, ma per la maggior parte del tempo e con il maggior impatto proprio sulla vita politica del paese. Crispi, fra l'altro, si trovò a essere capo del governo in un periodo in cui l'Italia in generale stava andando incontro a una nuova crisi economica, a differenze sempre più profonde fra le varie classi sociali, a nuovi problemi legati da situazioni di povertà e di difficoltà da parte di tante classi sociali, ed è un periodo anche di intense proteste. Nel 1889 in Sicilia nascono i cosiddetti fasci siciliani, cioè questo movimento di lavoratori che riguardava contadini, proletari, quindi la classe operaia, varie categorie di lavoratori, di ispirazione socialista, quindi legato ai principi del socialismo, erano movimenti che protestavano, anche con scioperi, manifestazioni, contro una politica economica che era percepita come opprimente, che in qualche modo non teneva conto appieno dei disagi, delle difficoltà di tantissime persone in Italia. Queste proteste, che si sviluppano nell'arco di vari anni, arriveranno a un punto di rottura, a un punto di particolare tensione, fra il 1893 e il 1894, anni in cui, fra l'altro, ci sarà anche una durissima repressione proprio da parte delle forze dell'ordine, da parte dell'esercito, verso queste manifestazioni di protesta. Dunque, l'ultimo decennio del XIX secolo per l'Italia è un periodo davvero caratterizzato da tensioni, da scontri a livello sociale, da proteste, da una situazione che si faceva sempre più pesante e sempre più difficile per tanti classi sociali, in particolare quella cosiddetta proletaria, e dalla risposta in qualche modo ambigua da parte dei vari governi di questo periodo. Da una parte, per esempio, lo stesso Francesco Crispi introduce una legge che garantisce il diritto di sciopero ai lavoratori italiani, d'altra parte invece ci sono casi in cui le proteste, le richieste di apertura di migliori condizioni di lavoro vengono respinte in maniera piuttosto violenta. In particolare un capitolo molto tragico della storia italiana di questi anni è la cosiddetta rivolta del pane o rivolta dello stomaco che avviene a Milano nel maggio 1898. L'aumento del prezzo del pane provoca infatti una serie di moti, ovvero di sommosse, di proteste molto dure. Si arriverà a fare delle barricate in città e addirittura in questo periodo viene dichiarato lo stato d'emergenza a Milano e vengono inviate le truppe dell'esercito per prima controllare ma poi reprimere, reprimere con violenza queste proteste. A capo delle truppe inviate a Milano c'è il generale Fiorenzo Bava Beccaris che ordina sostanzialmente di sparare sulla folla, di aprire il fuoco sui manifestanti, quindi punta per una repressione estremamente dura e tant'è che questa repressione, questo aprite il fuoco addirittura con dei colpi di cannone sparati dall'esercito italiano, provocherà almeno 83 morti nei giorni delle proteste, in totale probabilmente le vittime poi saliranno anche oltre il centinaio, e 2000 arresti fra i manifestanti. L'atteggiamento da parte del governo italiano e da parte addirittura del sovrano stesso di Umberto I è di completo appoggio a Bava Beccaris e a questa feroce repressione dei moti di Milano, tant'è che nel giugno del 1898 Bava Beccaris viene ricevuto con tutti gli onori da Umberto I e verrà addirittura nominato senatore, senatore del Regno d'Italia, quindi è un segno di appoggio completo da parte del sovrano che provocherà un senso di dispaesamento e di tradimento perfino in molte persone che invece avevano visto questo braccio violento della legge, questo braccio violento dello Stato come un sopruso, come un atto di violenza ingiustificabile da parte delle istituzioni italiane nei confronti del popolo italiano. Una sorta di epilogo di questa strage di Milano si avrà due anni dopo, nell'estate del 1900, quindi al passaggio proprio al XX secolo, quando infatti, mentre Umberto I si trova a Monza in una visita ufficiale, un giovane anarchico emigrato fra l'altro dall'Italia e rientra appositamente a Monza, Gaetano Bresci, spara al re, quindi uccide Umberto I. Sostanzialmente si tratta di un regicidio, del primo e unico caso di regicidio nella storia italiana, cioè di uccisione del capo di Stato e del re nello specifico. Bresci in qualche modo esprime con questo atto violento, con questo assassino politico, il risentimento di una parte della popolazione italiana nei confronti dell'atteggiamento assunto dallo Stato. Prima di suicidarsi in carcere nel 1901, Bresci scriveva infatti I fatti di Milano, ovvero la strage del 1898, in cui si adoperò il cannone, mi facerò piangere di rabbia e pensai alla vendetta. Pensai al re, perché costui, oltre a firmare i decreti, cioè oltre a dare l'autorizzazione all'esercito a sparare alla folla, premiava gli scellerati che avevano compiuto le stragi, cioè aveva ricompensato il generale Bava Beccaris. Il 1900 si apre con questo evento fatidico per la storia italiana e in qualche modo segnerà quindi una cesura, un punto di svolta per la storia dell'Italia, che a partire da quel momento, a partire dal XX secolo, dovrà affrontare una serie di nuove sfide, fino ad arrivare poi negli anni 10 del 1900 a quell'altro grande capitolo tragico, che è la Prima Guerra Mondiale.